Ormai qualunque tipo di governo ci sia è diventata una tassa che assicura un gettito fisso che è in questa fase economica estremamente importante. Il punto è se tu illudi gli elettori promettendo che toglierai questa tassa. L'illusione prima delle elezioni è un vizio italiano e può anche starci. Ma che il vice premier Salvini appena qualche settimana fa abbia detto che se la benzina arrivava a 2 euro si sarebbe intervenuti dà proprio il senso dell'imbroglio che viene fatto verso i cittadini e gli elettori.